no salve a tutti ragazzi buon tornare sul mio canale oggi continueremo a giocare a provolucion social 2018 allora ragazzi dobbiamo fare la partita contro il prosinone eravamo rimasti qua vediamo se va bene vediamo allora lo sapevo già vediamo che faccio in questa partita ragazzi scusate per la sedia un caloroso saluto a tutti voi siamo in attesa del calcio d'inizio ancora un po' di pazienza oggi si affrontano vediamo come va questa partita ragazzi devo cercare di vincere perché in campionato sto facendo pena ragazzi eh si ok volo niente zona embalo embalo si libera la grande cosver solta e colpisce di testa eccolo nooo sto cominciando a caburare ragazzi e passano in vantaggio sono partiti fortissimo lungo passaggio in avanti vabbè dopo quella vittoria che ho fatto diciamo che mi sono un po' rianimato diciamo c'è chiuso esil knowledge dai 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 E' incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Primo stiro. E supera il partiere. In sacca. Un gol molto importante. E' il suo. E' dimostrato grande grinta. Carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accordi. Non ho fatto almeno la mancatura a vuoto. Scusa una lontana. Il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Il Palermo occupa i bassi fondi della classifica dopo tre partite in cui non ha mai ottenuto un gol. C'è la palla lunga. In avanti. Il Crosinone ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita soprattutto grazie al proprio tecnico. Che è stato protagonista di un autentico capolavoro tattico. Si mi sembra evidente. Ha deciso di alzare il baricentro della squadra nel momento giusto. E' stata una scelta coraggiosa ma che alla fine colpisce il pallone. Un'ultima opportunità che voleva anche portare a gol. Penso che sia stato troppo velletario a tentare una conclusione da quella posizione. Opportunità di ripartire. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Cerca la profondità. Sulla fascia. E passa. Può colpire. Tentativo identico al precedente. E anche il risultato. Vabbè ci sono andato vicino però. A botta sicura ragazzi ci sono andato. A botta sicura. Cerca di allungare il gioco. Pallone scavalcare. Non benissimo però. Prova a verticalizzare. Ciò c'è. Stamattina è più difficile del solito. Eh lo so. Purtroppo ragazzi. C'è la palla lunga in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Eh. Bravo. Dai 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 dai. Riceve il passaggio. Cazza roga. Lungo passaggio in avanti. Scusate ragazzi se non parlo troppo. Purtroppo mi sto concentrando. Praticamente. Che succede che è? Gioca con un pallone lungo. Non può sbagliare. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Bravo. Riceve in ottima posizione. Terranova. Di forza. E partiranno con una rimessa laterale. Prova a verticalizzare. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Garantone un perfetto equilibrio. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte. Si chiude sull'1-1 al primo tempo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Attenzione, attenzione. Prova a giocare in avanti. Non si è capito con il compagno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Aaaaaah. Un baglio davvero. Un baglio davvero. Un baglio davvero. I compagni sembrano davvero preoccupati per le condizioni di questo giocatore. Eh ragazzi, se se ne stava andando. Non aveva alternativa. Bastardi. Non voglio che mi sembra. No, no, no. Di bello. Ahi. Attenzione, bagolo. Vabbè, ci ho provato ragazzi. L'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo. E questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Il palermo non ha ancora effettuato camp. Il palermo non ha ancora effettuato camp. E ora li faccio. Mamma che gol mi ha fatto. E adesso possono tornare a controllare il match. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. E' stato un tiro magnifico. E' stato un tiro magnifico. E' stato un tiro magnifico. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile. Ma secondo me la cercata e la messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. Peccato ragazzi. Ma dai, ha rimpallato l'avversario mio, il giocatore mio. Ma che sfiga ragazzi, che sfiga. Eh no, purtroppo no. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Dai, vai. Ma dopo, ma dopo ragazzi, segnala l'avversario. Entravo negli anali del calcio. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Prova la conclusione. Ben tiro. Sono andati vicini al gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Il problema è che siccome sono sbilanciato in avanti, ragazzi, e questi mi hanno segnato un contropiede l'astardi figlio di... Bah, non dico una altra parola, non dire. Con la palla alta sulla fascia. E' libero di creare pericolo. Stanno cercando di chiudere la partita facendo... Vabbè, ancora posso vincere. Padeggiare, pur che altro. Vincere è impossibile. Cosinone ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta in questa situazione. Ah, perché ho fatto... Facciamo qualche cambio, ragazzi. Vabbè. Mettiamo... Siva. Non è vero, non è che mi aiuta tanto. Vabbè, possiamo arrivare così qua. Sto facendo un azzardo. Vabbè, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Eccolo... Eccolo... Sto lo schierpe un altro. Ha trovato il palicio quando tutto sembrava perduto. Il Palermo ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E ha avuto subito un grande impatto sul cuore. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. La prossima volta faccio giocare di tornare. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Si libera la grande. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vabbè, considerando che la stavo perdendo un palaggio giusto, dai. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana, nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. Che partita si è giocata oggi, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra. A volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. E' tempo di ringraziamenti. E allora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. E ovviamente, qui al mio fianco, a Luca Marchegiani. Allora. Vabbè, il campionato è lungo ancora, ragazzi. C'è... Allora. Allora. Vabbè, il campionato è lungo ancora. allora ragazzi direi che con questo video ci salutiamo qui spero che il video vi sia piaciuto ragazzi iscrivetevi lasciate un mi piace un saluto da SteffiGamer ciao ragazzi al prossimo video